buon pomeriggio e bentrovati ancora da firenze smart mauro ciutini in studio un incidente causa rallentamenti in a1 tra valdarno e incisa reggello la direzione è quella per firenze ancora in a1 un veicolo è fermo rallentamenti tra il bivio a1 variante di valico e calenzano verso firenze in direzione opposta verso roma tra firenze sud e incisa reggello ancora in a1 un veicolo in avaria ci spostiamo sulla firenze pisa livorno ci sono mezzi in lento movimento tra ponte d'era est e montopoli valdarno verso firenze passiamo ai treni il 18 720 roma teronto la viaggia al momento con 38 minuti di ritardo ed è tutto grazie a regione toscana città metropolitana e comune di firenze ci sentiamo più tardi buon viaggio grazie a tutti